in questo trattamento andremo a vedere come trattare tutta la parte della testa la parte della testa io però la suddividerei non solo nella parte fisica ma quanto anche sotto l'aspetto un po più sottile quanto quello dell'aspetto dei sensi nella testa possiamo trovare i tre sensi principali che sono comunque dalla vista l'udito l'olfatto e basta mi sembra comunque vediamo un attimino cosa ci faccio con i sensi come ho già detto e ripeto comunque è fondamentale andare a ristaurare nella persona quello che si chiama l'istinto l'istinto è quello che ci garantisce la selezione di quello che ci viene dall'esterno il nostro istinto comunque è determinato anche da quanto sono sviluppati e sono attivi i nostri sensi andando a lavorare quindi su questi sensi andiamo a ridare la percettività al corpo all'uomo per poter saper distinguere queste cose nel piede troviamo innanzitutto tre dei sensi fondamentali che sono abbiamo gli occhi che poi vedremo sulla parte esterna abbiamo le orecchie per quanto riguarda l'audito e dopo andiamo a lavorare anche su quello che riguarda la testa quindi tutto quanto anche a livello cerebrale tra virgolette quindi andiamo a lavorare anche sul cuoio capelluto che è strettamente connesso sull'aspetto diciamo nervoso della testa allora adesso andiamo a vedere un secondo nel piede dove sono collocati le parti che ci interessano per andare a riarmonizzare quindi la pianta del piede partiamo quindi dall'andare a identificare la collocazione dei nostri sensi che troviamo nelle dita allora partiamo prima dal presupposto e comunque le dita sono la parte che nelle scarpe sono un po' più chiuse e non griglie